Si torna a parlare dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo ma soprattutto in questo caso di Alitalia perché va avanti la storia di quella che può essere un pericolo anche per i collegamenti. La novità qual è? Da ieri Alitalia ha sostituito gli airbus con gli autobus, quindi si va dall'aeroporto di Pescara verso Fiumicino non più con gli aerei ma con gli autobus messi a disposizione da Alitalia che tra l'altro va in concorrenza alle aziende locali che quotidianamente collegano Pescara con Ciampino e con Fiumicino. Era stato annunciato un incontro del governatore D'Alfonso proprio con Alitalia e avevano detto che questa è una situazione che in qualche modo si era verificata anche in altri aeroporti come quello dell'Umbria. In questo caso ci sono ancora delle possibilità secondo voi? Domani il governatore D'Alfonso andrà a Roma, incontrerà i vertici Alitalia ma oramai è tardi, i buoi sono fuggiti e andrà a chiudere la stalla dopo la fuga dei buoi. Quali possono essere le conseguenze su Pescara? L'aeroporto è in caduta libera, Ryanair difficilmente tornerà, il governatore ha passato la palla nelle mani del ministro del Rio, è difficile secondo me modificare il decreto legge 145 che regolamenta la gestione degli aeroporti minori.